Andiamo al segno del cancro, per voi questa è una luna molto bella, quella che tratti dal segno dello scorpione, una luna fortunata, è una luna che si scontra però con Mercurio, qualche spesa di troppo per concedervi dei gussi, dei piaceri, insomma potreste anche evitare, però alla fine se tutto questo vi porta gioia e maggiore serenità fatelo, consideriamo anche che questo Mercurio vi consente di ottenere degli ottimi risultati da un punto di vista economico, finanziario, proprio dal vostro lavoro, quindi magari un piccolo strappo alla regola, un piccolo russo in più ve lo potete anche concedere e questa è una luna che parla anche di amore, di sentimento, scontrandosi con Mercurio parla di una certa facilità da parte vostra a promettere mari e monti, sappiamo che poi sia un segno estremamente romantico e quando vi sentite mossi da queste emozioni così forti, e beh, certe volte non sapete regolarvi, ecco, però tutto sommato questa è una giornata davvero fortunata.